Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, buon inizio di settimana. Vi faccio vedere questo in gergo take dell'Ansa e delle 9 e 16 di questa mattina, lo avete già sentito durante Omnibus, e la notizia secca che annuncia l'arresto di Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro era l'ultimo boss mafioso di prima grandezza ancora ricercato, 30 anni di latitanza, queste sono vecchie foto, non c'è una foto recente, ed era l'ultimo grande boss dopo gli arresti di Totorina, anche lui latitante per moltissimo tempo, come pure Bernardo Provenzano. Dalle informazioni, tante che cominciano ad arrivare, si è saputo che il boss sarebbe stato arrestato all'interno di una clinica privata di Palermo, la clinica Maddalena. I carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della regione siciliana hanno tratto in arresto Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria. Questo lo ha fatto sapere il generale Pasquale Angelo Santo, che è il comandante dei ROS dei carabinieri. Dicevamo 30 anni di latitanza, capo mafia di Castelvetrano nel Trapanese. Qualche giorno fa proprio il ministro dell'interno Piantedosi, a proposito di mafia, a proposito della latitanza di Messina Denaro, aveva detto da ministro dell'interno auspico per giustizia nei confronti delle vittime, che venga preso con fido nelle forze di polizia e magistratura. E stamattina questa notizia, che apre da un punto di vista molto positivo nella lotta alla mafia la settimana. Vi presento i nostri ospiti. Bentornato a Carlo Puca, giornalista e scrittore. Bentornato a Gaetano Pedullà, direttore della notizia. Saluto Annalisa Chirico e saluto Alfonso Celotto, costituzionalista. Parleremo ovviamente delle questioni politiche, parleremo del caro Carburanti, che torna ad affacciarsi con grande evidenza, anche perché l'Antitrust stamattina ha dato notizie di aver aperto un istruttore nei confronti di grandi compagnie petrolifere a proposito dei prezzi. Però cominciamo ovviamente da questa notizia molto importante e clamorosa. Parto da Gaetano Pedullà, che è siciliano, peraltro, e che ben conosce anche la vicenda di Messina Denaro. È un arresto che si aspettava, erano tanti anni, ed è probabilmente il segnale di un grande cambiamento all'interno della cupola e del movimento mafioso siciliano. È un'ottima notizia l'arresto di Messina Denaro, ma dietro lascia intuire delle cose che possono maturare in questo momento. Da una parte l'indebolimento di quella mafia che aveva preso il posto della mafia stragista. Messina Denaro era collegato a Totò Riina, che riesce a imporre il suo potere contro le famiglie storiche palermitane, dei Bontade, il vecchio controllo pacato della mafia, con una serie di omicidi eclatanti, i più famosi quelli di Falcone e Borsellino. Ma quello che proprio segna la fine di quei rapporti... C'è la sua responsabilità in tutto questo, nella stagione stragista, Falcone, Borsellino... Certo, chi segna il cambio di passo di quella stagione è l'omicidio di Salvo Lima, che era una sorta di garante dei rapporti tra gli interessi della mafia, della mafia a livello di cupola che controllava i grandi traffici internazionali della droga, essenzialmente è la politica, la politica romana. Salvo Lima era il leader dell'area andriottiana in Sicilia. Ecco, quella stagione lì viene a un certo punto bloccata con l'arresto di Totò Riina, il cambio di passo e poi una lunga stagione di tranquillità in un certo senso, che non significa che la mafia sia finita, significa che la mafia ha cambiato strategia. Quella mafia lì probabilmente oggi è meno potente, l'arresto di Messina Denaro può lasciare intendere tante cose. Anche un inizio di riposizionamento di clan che esiste ad avere un controllo militare del territorio in tutto. Anche una nuova guerra di mafia, noi l'abbiamo vista ormai 30 anni fa, erano le stagioni tragiche degli oltre 100 morti a Palermo, 100 morti a Catania, che nascevano proprio da quel caos. Questo arresto qui è un arresto che va adesso valutato in tutta la sua interessa. Aspettiamo di avere altre notizie. Peraltro custodirebbe molti segreti, diciamo, anche sulla stagione stragista, sulle stragi di Falcone e Borsellino. C'è poco da sperare che faccia, come dire, il pentito, che ce lo auguriamo. Aprirebbe un grande scrigno e un vaso di Pandora. Ma, diciamo, i mafiosi che hanno questa storia alle spalle, è difficile che accettino questo tipo di collaborazione con lo Stato. Allora, do qualche altro dettaglio ad arrestarlo. I carabinieri del ROS a coordinare le indagini. Il procuratore della Repubblica di Palermo, Maurizio De Lucia, l'ha aggiunto Paolo Guido. E poi l'altra, diciamo, notizia abbastanza singolare è che l'arresto di Matteo Messina Denaro è avvenuto a 30 anni esatti da quello di Totò Rina, che fu cattorato il 15 gennaio del 93, oggi è il 16 gennaio, possiamo dire, a 30 anni esatti. Ecco, lo vedete. Peraltro lui era di una prudenza ossessiva nel comunicare, diciamo, con i suoi. Poi leggo di alcuni soprannomi che gli sono stati attribuiti, Diabolico, Siccu, Iddu, semplicemente Iddu. Vado da Carlo Puga che tante inchieste ha fatto sulla criminalità organizzata. La Camorra, insomma, conosce anche molto il retroterra della mafia. Guarda, intanto due cose laterali che però secondo me sono importanti. Intanto l'età, cioè Messina Denaro sembra un personaggio epico, ma ha appena 60 anni e quindi latitante da decenni, ma ha appena 60 anni. Cioè è ancora relativamente giovane per quella stagione lì, quindi già all'epoca comandava tanto pur essendo giovanissimo. E questo, diciamo, è un dettaglio non di poco conto. Seconda cosa, è vero, ci sono le stragi di Stato, ci sono gli attentati a Firenze, insomma c'è stato tanto male da raccontare. Però c'è anche la gruteltà individuale di quest'uomo. Qui non è che c'è soltanto la strategia. Il piccolo Santino di Matteo ha sciolto nell'aceo. Vero sanguinari. Ha strangolato con le sue mani una donna incinta di tre mesi, quest'uomo. Stiamo parlando di una persona di questo tipo e è chiaro che per lui le stragi di mafia erano una cosa, come dire, degli atti quasi naturali. Quindi è una buona notizia per lo Stato. Questo naturalmente, come diceva Gaetano, non deve far abbassare la guardia perché è chiaro che abbiamo, come Italia e italiani, ci mettiamo tutti dentro, sta nato la vecchia mafia, la mafia stragista, però è vero che era una mafia anacronistica, nel senso che adesso la mafia, le mafie, la criminalità, si muove su ben altri binari. Cioè non sono più certo i racket, l'estorsione, la piccola minaccia e così via. La mafia è in grisaglia, in doppio petto. E' in grisaglia finanziaria, quindi è lì che adesso bisognerà puntare i fari e servirà naturalmente anche una nuova categoria di investigatori che sappia intercettare quel tipo di crimini. Ecco, io ho visto che sia Rina, Rina era sfuggito per 23 anni alle manette, Provenzano 38 anni. Qualcuno però si chiede come mai in un'epoca di così tanta strumentazione tecnologica anche la latitanza di Messina Denaro sia potuta durare così a lui o a con il rezzo. Intanto lui non usava tecnologia proprio per evitare qualsiasi tipo di intercettazione. E' chiaro che qui c'è stata una gola profonda. Qualcuno ha parlato, qui bisogna vedere. I loro whatsapp erano i pizzini, l'instrumento di comunicazione. Perché poi il problema è sempre quello, vengono sempre arrestati a casa loro. Non è che era istante. Quello è fondamentale. Qui è incognito ovviamente in questa clinica privata di Palermo. L'appartenenza è fondamentale. Cioè nel senso che il boss che è boss non si può allontanare dai luoghi che controlla. Questo è storicamente il punto di debolezza. Il punto di forza criminale è il punto di debolezza. Vengono trovati nei loro territori perché c'è una paura nel denunciare. C'è una tensione nella popolazione, in chi conosce, in chi sa, perché mettersi contro questi personaggi ha dei rischi altissimi. E dunque ci sono state delle protezioni. Certamente c'è da augurarsi non solo che Messina Denaro vuoti il sacco. Non me lo aspetto, ma sarebbe veramente una grande pagina di lettura del fenomeno mafioso nel suo complesso. Ma soprattutto che l'inchiesta, le indagini che hanno portato a questo arresto, ci aiutino anche a capire il sistema di protezioni che certamente c'è stato. Oh, peraltro è stato segnalato in questi anni, in Sud America, a proposito di dove è stato trovato Valermo, a Dubai, nel Regno Unito, in Svezia, nei Paesi Bassi. Insomma, molte notizie che poi evidentemente non si sono concretizzate. Comincia a esserci un profluvio di dichiarazioni, ovviamente, da parte della politica, dei leader politici, ma anche istituzionali. Tra le prime vedo molte dichiarazioni, per esempio, da parte del Terzo Polo, Calenda, Renzi, Vittoria dello Stato, il ministro Crosetto, complimenti alle forze dell'ordine, ancora ho letto, ovviamente, Salvini, una bella giornata, un ammonimento per i mafiosi. E' un po' pelosa queste dichiarazioni, un po' pelosa. Però, insomma, anche abbastanza legittime assise, no? Si festeggia per un arresto importante e poi si mettono in atto una serie di provvedimenti che aiutano i mafiosi. Stiamo vedendo gli effetti alla cartaglia. Aspetta, adesso ci arriviamo. Fammi sentire da Annelisa Chirico, cosa rappresenta per il... Visto che il governo è in carica, il governo di centrodestra, presieduto da Giorgia Meloni, cosa rappresenta? Peraltro, al termine di un fine settimana, di giorni un po' movimentati per la maggioranza, no? A proposito del caro Carburanti, ma non solo. La cattura di un boss mafioso, latitante da 30 anni, è una vittoria dello Stato, non di questo, di quel governo. Una vittoria dello Stato che in qualche modo fa anche premio rispetto a una retorica che negli scorsi anni è stata molto strombazzata e che voleva rappresentare uno Stato addirittura connivente o collaboratore della mafia. L'Italia, anche con la morte di magistrati che hanno lasciato davvero la vita sul campo, ha fatto la lotta alla mafia. Ha vinto questa lotta alla mafia e oggi, più che sul significato pratico, perché come veniva ricordato, è chiaro che la mafia di oggi si muove su altri binari, che sono anche il traffico internazionale di droga, la tratta di esseri umani che lambisce la costa settentrionale dell'Africa. Noi sappiamo che ci sono diverse procure che fanno indagini e stanno lavorando sulla mafia nigeriana in collaborazione con quella italiana. Insomma, il mondo anche della mafia si è evoluto ed è cambiato, ma il valore simbolico di questa vittoria credo che debba farci sentire tutti quanti orgogliosi grazie al lavoro della procura guidata da De Lucia a Palermo, al lavoro del ROS, le forze di polizia, gli investigatori che da anni lottavano, nonostante talvolta una rappresentazione mascariata, per usare un termine siciliano, rispetto al ruolo delle istituzioni contro la mafia, hanno lottato in silenzio e hanno conseguito un risultato importante. Quindi viene restituito alla giustizia e dovrà adesso essere ovviamente processato e poi seguiremo l'esito del processo. Questa polemica, insomma, nelle settimane scorse, proprio tra l'opposizione e la Meloni, sulla lotta alla mafia, sulla questione mafia... Beh, ci sono dei problemi con la riforma cartabia... No, però scusa, poco fa Giotto Meloni, secca dichiarazione, lo Stato dimostra di non arrendersi così la Premier un attimo fa. Scusami. No, dicevo appunto che ci sono dei problemi legati alla riforma cartabia, mi pare che il Ministro della Giustizia Nordio sia già all'opera per risolverli, perché è chiaro che la procedibilità, solo su querela di parte, in alcuni casi, può creare dei problemi, ma mi pare che anche oggi, con un'intervista del Vice Ministro Sisto, si chiarisce che si interverrà per evitare appunto... Magari poi ci torniamo in margine alle tante polemiche e dobbiamo andare in pubblicità. Ripartiamo dalle polemiche e anche dal caro Carbulanti, perché oggi la mattinata si era aperta con un'altra notizia, appunto l'istruttore dell'antitrust, che non è di poco conto. Ci vediamo tra pochissimo. Il primo messaggio che ho mandato questa mattina quando mi giocato è stato il messaggio di buon compleanno da Giorgia Renoni, io spero e sono certa che avremo quei cinque anni, nonostante i tentativi, diciamo, di buona parte dell'opposizione e non solamente dell'opposizione, di fare qualsiasi cosa per mettere i bassoni tra le ruote. La maggioranza è coesa, tutte le indiscrezioni vanno smentite perché non rispondono alla realtà. Forza Italia sostiene e sosterrà per i prossimi cinque anni il governo di centrodestra. Sono sicuro che dopo trent'anni di battaglie, grazie al vostro impegno, grazie a un centrodestra, a sé che dovremo imparare al governo e grazie alla presenza importante della Lega, l'autonomia che significa modernità per tutte le parti, la realità e l'autonomia. Confesso che in questi giorni a me viene spesso in mente la frase che fu attribuita a Giuseppe Garibaldi, chiaramente in un tempo molto diverso da questo, no? Qui si fa l'Italia o si muore. Ritengo che il fondatore so di fare un'affermazione molto forte del pensiero di destra nel nostro paese sia Dante Alighieri. Allora, fibrillazioni varie, situazione nel centrodestra con la chiosa, appunto la provocazione, oggi lo ripeto in un intervento sul Corriere da Sera, il ministro San Giuliano, la provocazione appunto di Dante, come diciamo ideologo della destra, in Italia. Allora, vorrei però tornare sulla questione principale. Dicevamo che il caro Carburanti ha messo contro il governo e i benzinai, domani è annunciato un tavolo tecnico dopo l'incontro dell'altro giorno, incontro che ha permesso di congelare lo sciopero. Dicevo che stamattina l'antitrust ha fatto sapere di aver avviato istruttorie con ispezioni della Guardia dei Finanzi, ovviamente, nei confronti di Eni, Esso, IP, Kuwait e Tamoil. Dai controlli è emersa un'emessa diligenza da parte delle compagnie petrolifere nei controlli sui distributori. non avrebbero adottato, dice l'antitrust, misure o iniziative idonee a prevenire e contrastare queste condotte illecite a danno, ovviamente, dei consumatori. Quindi, diciamo, si arricchisce anche di questo capitolo la questione caro Carburanti. C'è l'otto che voleva dire che poi basta che il gestore della pompa non sposti il prezzo per alcune ore e quindi approfitta di questo interregno, no? Quindi c'è lì, c'è anche il controllo sulla filiera che è molto importante, oltre che la questione in sé del prezzo e del costo. Certo. Allora, noi abbiamo collegato... Solo una cosa, però. Sì, fate però salutare l'ospite, arrivo, perché c'è Alessandro Zavalloni che aspetta da un po', ma d'altronde la notizia dell'arresto di Messina Denaro è di prima grandezza, segretario nazionale di Feggica Cisle, no? Segretario? Feggica. Feggica, eh, vabbè, potevo prenderla al 50% di possibilità di indovinare la sigla. Le parole in italiano sono normalmente piane, le sdruccio le sorare, quindi... Eh sì, è Feggica. Allora, indipendentemente dall'accento, è un problema. Con la Cisle abbiamo separato le strade consensualmente da un po' di tempo, quindi siamo solo Feggica. Volevo però, scusi un attimo, arrivo subito da lei, che volevi dire Carlo? No, no, magari può anche risponderti... Cioè, intanto è un istruttore, quindi non sappiamo se poi andrà a buon fine, perché potrebbe essere anche, diciamo, semplicemente, come dire, un avviso di garanzia, ecco, una indagine conoscitiva, primo. Secondo, ma se è così, perché questo istruttore si apre soltanto adesso e non un anno, due anni, tre anni fa? Insomma, c'è qualcosa che non torna. Tu dici, c'è stata la pressione generale, eh? Sì, mi sembra una scelta molto politica e francamente io invece dall'antitrust mi aspetto una, come dire, un approccio istituzionale alle cose, ecco. Facciamo così, prima di sentire i gestori, posso? Adesso, torno un attimo alla notizia d'apertura, vi faccio vedere... Prima accennavo la dichiarazione della premia Giorgia Meloni, vediamola, eccola qui, una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia all'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totorina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurata alla giustizia, scrive Giorgia Meloni. Vi faccio vedere anche, credo sia una battuta molto rapida, del capo dei ROS, che avevo già citato prima, il generale Pasquale Angelo Santo. Sentiamo questa prima dichiarazione ufficiale. Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del ROS, del GIS e dei comandi territoriali della legione Sicilia, nell'ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo, hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche. Ecco, secca la dichiarazione però, insomma, in una giornata come questa bisogna fare sentire anche queste dichiarazioni, questa è una voce ufficiale importante. Anche qui, diciamo, siccome sul sud c'è questo preconcetto siete mafiosi, eccetera, poi in verità, come sentiamo dall'accento del generale, poi chi arresta i mafiosi sono sempre i meridionali, quindi attenzione, diciamo, ad alimentare i preconcetti perché abbiamo i corpi ma abbiamo anche gli anticorpi nel mezzogiorno, diciamo. Le truppe sabaude per combattere il brigantaggio non sono servite, lo sappiamo. Allora, do ancora una notizia. Dopo il blitz, appunto, in questa clinica di Palermo, Matteo Messina Denaro è stato trasferito in una località segreta, come insomma sempre succede, questo è ovvio. Denaro faceva periodicamente controlli in questa clinica, in questa struttura, che la scorsa notte durante il blitz dei Ross era stata messa in sicurezza con diverse decine di uomini per tutelare ovviamente gli altri pazienti che soggiornavano in questa clinica. Quando è stato arrestato, Matteo Messina Denaro non era allettato, non si trovava a letto, ma si stava effettuando dei controlli. Questi sono i primi particolari che emergono dell'arresto. Allora, situazione, caro carburante, sentiamo i gestori, perché mi pareva che la situazione si fosse, questo lo dico io, un po' chiarita, il tavolo tecnico di domani, poi ho sentito che però siete nuovamente allertati o no? Intanto chiedo la cortesia, modestamente ovviamente, di poter fare complimenti alle forze dell'ordine per questo arresto. Non sto, come dire, cambiando discorso. Questo settore ha 13 miliardi l'anno, secondo la magistratura di questo Paese, secondo la Guardia di Finanza, secondo le indagini, anche l'Agenzia dei Monopoli. Ci sono 13 miliardi di euro ogni anno sottratti all'erario, in termini di accisa e di IVA, dalla grande, piccola, media, più o meno organizzata criminalità. Quindi stiamo parlando sempre di questo. Sono 13 miliardi, rispetto ai 10 che si dice costasse il provvedimento di taglio delle accise, forse una qualche attinenza con questo argomento. E mi pare di poter dire che si mostrino anche il fatto che in questo settore c'è dei grandissimi problemi. Sono dei problemi annosi. Ha bisogno, questo settore, di interventi normativi, di una riforma che riporti il piano regolatorio minimo essenziale, anche per consentire il contenimento dei prezzi. E che mi pare di poter dire che ci fa fatica a capire se si risolvono con un cartello in più, un cartello in meno, il benzinaio che speculerebbe. Quindi, torniamo, come dire... Però mi scusi, Zavalloni, per essere, come dire, cerco di... Lei ha spiegato bene, ha fatto questo quadro iniziale, ma per essere concreti. La prima domanda che le faccio è, cos'è che non vi va bene di questo decreto, intanto? Cos'è che contestate? Guardi, il decreto è un decreto sotto gli occhi di tutti, è un decreto pasticciato. Non è che non va bene a noi, non va bene ai consumatori, agli automobilisti. Di sicuro non c'è niente in questo decreto che consenta agli automobilisti di sperare che il prezzo dei carburanti venga minimamente ridoccato a ribasso. E fumano gli occhi, continua a essere data l'idea che sono i distributori a fare speculazioni per cui un cartello, le penalizzazioni, le multe, serve solamente per dare fumo agli occhi. Questo è un problema serio, molto concreto. Ma voi contestate anche le multe per chi non espone il cosiddetto prezzo medio nazionale? Contestate anche l'entità delle multe, mi pare di aver capito. Ma l'entità delle multe stanno lì a dimostrare che bisogna punire gli speculatori in maniera esemplare. Anche questo è un annuncio. Ma il problema è, i prezzi della benzina si abbassano o no? Deve essere chiaro, noi non contestiamo il fatto che il governo decida di allocare le risorse come meglio ritiene opportuno. Deve poterlo fare, deve poterlo fare però assumendone la piena responsabilità, non facendolo scarico a barile, si aumentano i prezzi e poi in tutte le maniere si cerca di dare la responsabilità a qualcun altro. Il governo nella riunione dell'altro giorno, era presente Mr. Prezzi, ci ha detto chiaramente, mi pare di poter dire, dovrei essere smentito su questo, che il comportamento dei benzinai sulla base delle rilevazioni dei prezzi che quotidianamente unico settore commerciale i benzinai mettono dentro, a disposizione di tutti, mettono dentro il portale del Ministero che il comportamento dei gestori rispetto al calo delle ascise di marzo del 2022 e l'aumento delle ascise di novembre e di dicembre è stato più che specchiato. Questi sono i dati. Dopodiché l'antitrust, chiaramente fa il suo mestiere come ogni istituzione che è preposta a controllare le dinamiche di questo o di quell'altro settore. Io sono un benzinario e sono un sindacalista, quindi ce le ho tutti i difetti. Di sicuro io con le compagnie petrolifere lì tipo tutti i giorni per le condizioni in cui tengono i gestori. Però Zavalloni, mi scusi, è chiaro, io quello che le chiedo è, siccome lo sciopero era stato congelato, adesso mi pare di capire da voci, più voci che sento dalla vostra categoria che invece c'è di nuovo Maretta, per scongiurare questo sciopero del 25 e del 26 gennaio, che dovrebbe fare il governo da vostro punto di vista? Quale iniziativa prendere? Intanto c'è bisogno di assumere delle responsabilità serie. Questo è un settore che ha bisogno di una riforma, quindi deve avviare immediatamente rispetto al passato. Non c'è mica solo questo governo che ha grandi responsabilità, anche quelli precedenti. Deve finalmente riuscire a mettere le mani seriamente su questo settore. Seriamente non vuol dire né prendere in giro la gente, né accusare a bambera i benzinai, vuol dire assumere una serie di impegni per avviare una riforma profonda di questo Paese. C'è bisogno di recuperare legalità in questo settore, da ogni punto di vista, perché per esempio il 60% di quelli che vengono definiti benzinai sono senza contratto, senza accordi collettivi e certe volte anche senza permesso di soggiorno. Quindi c'è bisogno di avviare delle riforme e assumere dei provvedimenti che progressivamente, perché non esiste un interruttore che accende e spegne la luce e risolve problemi atavici, magari ventennali, gli errori fatti in passato. Quindi c'è bisogno di serietà, questo noi chiediamo al governo. Annalisa Chiro, che hai capito rispetto a quello che ci ha detto Zavalloni? Come pensi che andrà avanti questo negoziato? Sicuramente c'è stato, se posso dire, un errore di comunicazione nella fuga in avanti, in particolare della Lega, che ha parlato appunto di speculazione, mentre poi i dati ufficiali forniti dal Ministero dell'Ambiente ci hanno fatto vedere che il rialzo del prezzo medio della benzina di circa 16 centesimi è legato essenzialmente al rialzo delle accise. Ci sono stati casi isolati di speculazione, ma non è questa. Quindi io capisco che i benzinai si siano sentiti un po' colpevolizzati ingiustamente. Però poi mi pare che il governo abbia fatto chiarezza, non solo fornendo i dati che ho appena citato, ma anche il Presidente Meloni ha spiegato che chiaramente questa è una misura impopolare, l'ha ribadito il Ministro del Made in Italy, Urso. Cioè una misura impopolare inevitabilmente provoca un contraccolpo. Io credo anche però che chi governa abbia il dovere anche di assumere misure impopolari e quello sconto del governo Draghi che valeva un miliardo al mese non era prorogabile sine die. Il problema della benzina che in Italia costa tanto tra accise e IVA è un problema diverso e mi pare che sempre il governo col Presidente Meloni abbiano chiarito che nell'arco di cinque anni loro si pongono l'obiettivo di ridurlo. Loro parlo di sterilizzazione, no? Sì, attraverso l'aumento del gettito IVA è una cosa diversa da taglio degli accise. È chiaro che se aumenta il prezzo della benzina e quindi aumenta il gettito IVA loro si pongono l'impegno, hanno annunciato l'impegno di ridurre anche le accise. Però io penso che anche da parte dei benzinai, e capisco davvero lo scontento, è anche il senso, il disagio per chi lavora onestamente e si sente un po' colpevolizzato. In questo momento forse ecco il buonsenso da parte di tutti, non credo che sia proprio questo il momento per esacerbare lo scontro, ma piuttosto con un governo che li ha anche ascoltati rapidamente, che è pronto sicuramente al confronto e a mediare con loro anche nei prossimi giorni, spero che ci sia un approccio diverso perché uno sciopero nazionale davvero sarebbe un guaio per tutti. Dopodiché il tema del carburante, l'ultima cosa, è un po' un tassello di un mosaico molto più ampio che Andrea è l'inflazione, cioè ci stiamo concentrando sulla benzina, sembra a un certo punto che sembrava la settimana scorsa che in tutta Italia la benzina costasse due euro e mezzo mentre era 1,8 al litro, cioè un rialzo era inevitabile e prevedibile che ci fosse, ma il problema è l'inflazione che non tocca solo le pompe di benzina, ma che sopra i 10 punti percentuali sta impoverendo i salari reali di tutti quando fanno la spesa al supermercato. Nell'ambito di questo discorso che fai, ricordiamoci che mi pare dal 5-6 febbraio scatta l'embargo totale sul petrolio russo, il che potrebbe far rialzare nuovamente i prezzi. Il presidente di Nomisma Tabarelli proprio in questi giorni diceva che appena aumenta di nuovo il petrolio aumenterà anche il costo della benzina, cioè il governo secondo me dovrebbe dare una risposta credibile su come intende rimediare alla perdita di potere d'acquisto degli italiani. Posso, Celotto, vengo subito a lei. Tre notizie molto importanti. Intanto alla notizia dell'arresto di Messina Denaro ci sono stati applausi fuori dalla clinica palermitana la Maddalena, dicevamo, dove è stato catturato il superboss. Poi ancora era in cura in questa clinica da un anno. Questo danno le notizie. Poi poco fa il capo dello Stato, il presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiamato il ministro Piantedosi, il comandante dei Carabinieri, ovviamente complimentandosi per questo arresto. Vediamo Celotto così guardiamo le pubblicità. Un secondo, come è composto il prezzo della benzina? Metà è costo del petrolio e metà sono tasse. Costo industriale. Costo industriale, sì, poi costo della filiera e così via. Quindi ovviamente cosa è successo da un anno a questa parte? È aumentato il costo industriale, è aumentato il costo del petrolio. Ovviamente non è che facendo uno sconto ponte come quello del governo Draghi riesci a risolvere il problema. serve una politica fiscale più seria per sterilizzare la parte fiscale e quindi riportare la benzina più vicina al costo proprio, al costo del carburante. Ma siccome Zavalloni... Ma ce lo possiamo permettere? Eh? E' quello il punto. Questa è la prima domanda. Poi adesso lo riprendiamo il tema, perché poi è stato appunto oggetto di grandissime polemiche anche tra maggioranza e opposizione. L'altra domanda che le faccio, ma proprio rapidamente, siccome si citava Mr. Prezzi, no? Che è un signore in carne e ossa, non è? È un signore in carne e ossa, è un ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico. Ma che fa Mr. Prezzi? Controlla tutti i prezzi italiani. Sappiamo che negli anni di grande inflazione addirittura c'era il Comitato Interministriale Prezzi, che era addirittura più persone che controllavano questo. Il CIP, il famoso CIP. Esatto, il CIP e il CIP. Esatto che c'erano. E il Comitato Interministriale Prezzi, invece poi da una decina d'anni è stato rintrodotto nel Ministero dello Sviluppo Economico, questo signore è proprio un ufficio personale. Oltre a contro a monitorare i prezzi, che fa? E può fare segnalazioni, ovviamente, anche all'antitrassa, agli altri ministeri, alla magistratura, alla Corte dei Conti, a seconda dei prezzi impropri. Un organo di vigilanza. Pubblicità, torniamo tra pochissimo e vi diamo altri aggiornamenti sull'arresto di Matteo Messina Denaro. Allora, la cattura, dopo trent'anni di latitanza del super boss della mafia Matteo Messina Denaro, il ministro Piantedosi, che si trova ad Anchera per un vertice italo-turco, si è detto, ovviamente, più che soddisfatto per questo risultato storico nella lotta alla mafia e ha fatto i suoi complimenti alla procura della Repubblica di Palermo, ovviamente all'arma dei carabinieri, che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Ha detto, ovviamente, che è una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono le mafie. Questo, come ultimo aggiornamento, vi abbiamo già detto degli applausi all'esterno della struttura sanitaria dove è stata arrestata a Palermo. Ecco, queste sono le prime foto di come oggi, perché noi avevamo delle foto tutte molto vecchie, molto vintage, e finalmente riusciamo a vedere come in tutti questi anni è cambiato ovviamente Matteo Messina Denaro. Questa è un'altra foto dal sito del Corriere della Sera durante l'arresto. Volevo affrontare un altro argomento, però sentire proprio due tweet sulle polemiche accise benzina caracarburanti. Riparto, Gaetano Pedullà. Il tema della benzina è collegato a tutte le cose che ci siamo detti adesso, non c'è dubbio. Essenzialmente ricorderei la fine di quello sconto che aveva messo il governo Draghi sulle accise. diventa un caso politico, perché proprio su questa partita le destre, sia Salvini per un lungo periodo, ma anche la Meloni, fino alla chiusura della sua campagna elettorale ultima, avevano promesso di fare tutto l'opposto di quello che poi è stato fatto. Ci avevano promesso di cancellare, sterilizzare, chiamiamole come vogliamo, ma l'essenza era quella, cioè di non andare contro alla fine degli sconti, ma di metterne di più. Quindi quando l'aumento della benzina, a cui è collegato l'aumento del costo della vita, perché il costo della vita passa anche dall'aumento del costo dei trasporti, delle merci, ecco che questo tradimento, io non riesco a trovare una parola diversa per definire quello che è stata la promessa elettorale delle destre, e quello che poi è stato uno dei primi provvedimenti sostanzialmente dell'attuale governo, va a cozzare. Se per di più si fa l'errore di comunicazione, come è stato detto, rispetto alla responsabilità del benzinaio, che è l'ultimo nella filiera che contribuisce costi ad avere voce in capitolo, anzi è una categoria che ha dei costi industriali altissimi e dei problemi, come dire, a far quadrare i conti altissimi, questo chiaramente suscita quel gesto. Adesso il governo dovrebbe fare due cose, il primo fare retromarcia, io non so come uno scostamento di bilancio se la veda lei, ma se vuole essere coerente alla promessa deve mantenere almeno un po' di quegli sconti e dall'altra parte avviare quella riforma del settore della distribuzione dei petrolio e dei carburanti, che aspetta da molto tempo, io ricordo che me ne occupavo, lavoravo a Italia oggi 25 anni fa, seguivo le associazioni dei benzinai, dei distributori di carburante, le stesse cose che chiedevano allora sono identiche anche adesso. Carlo? Io tweet davvero, io penso che adesso, siccome non se ne farà nulla, secondo me invece non si troverà il modo, perché costa troppo in questo momento, si stia tentando di spostare l'attenzione mediatica dalla promessa mancata al problema dei benzinai, che francamente mi sembra... Cosa che diceva venuta. Sì, mi sembra una cosa a meno, e anche l'istruttore dell'antitrust va in questa direzione. Qui, dopo l'analisi a Chirco, così poi salutiamo anche Zavalloni. Solo così una riflessione anche di realismo politico per chi è stato chiamato a governare praticamente a ottobre con un dato quadro macroeconomico che era già definito ovviamente dal governo precedente. In due mesi per fare la manovra di bilancio era chiaro che non c'erano gli spazi con due terzi della manovra assorbiti dal caro energia per fare delle misure radicali sul fronte del taglio delle accise. Siamo anche un po' realisti. Questa manovra è la prima, ma non è certamente quella che dà la lettura politica o la visione politica di questo governo. La prossima sarà il vero banco di prova e così i prossimi 4 anni di governo, 5 anni di governo, per capire davvero dove il governo vuole andare e se riesce davvero a fare qualcosa che serve, certamente, di radicale, di organico, di incisivo sul fronte delle accise. Ma non era la manovra del 2022. Allora, volevo adesso introdurre un altro elemento di grandi frizioni sia nella maggioranza, ma soprattutto nella maggioranza di opposizione, che è quello dell'autonomia differenziata. Intanto vi do conto di quanto ha detto il Presidente del Senato la russa. Dice la russa, bene così la lotta alla mafia non conosca tregua. Allora, c'è quest'altro... Intanto facciamo una cosa, salutiamo Zavalloni. Zavalloni, un ultimo messaggio ci dia prima di salutarla. Ma guardate, deve essere chiaro, i benzinai, l'ultima cosa che vogliono fare è chiudere gli impianti e fare scioglie. Deve essere chiaro. Noi chiediamo serietà e soprattutto assunzione di responsabilità da parte del governo. Che assuma la responsabilità intanto dei propri atti, poi che non scarichi, anzi chiarisca perfettamente anche il provvedimento dell'antitrust, l'apertura istruttoria. Perdonatemi, 30 secondi. Anche il provvedimento dell'antitrust. L'antitrust è stata evocata. È stata evocata dal Ministro Giorgietti come le indagini della Guardia di Finanza. Anche in questo decreto c'è scritto. Il problema è che l'antitrust di indagini e di istruttori in questo paese negli ultimi 30 anni ne ha aperte a dozzine e non ha mai trovato la pistola fumante. Adesso bisognerà vedere se lo trovi in questo stato. Però ha anche derubricato. Mentre prima andava cercando il cartello dei petrolieri, adesso dice ai petrolieri che non avete controllato perché truffano i vostri benzinai. Quindi ci vuole serietà. L'antitrust, ricordo a tutti, è che 15 anni fa ha imposto, virgolette, accettato che le compagnie petrolifere dessero un prezzo cosiddetto personalizzato. Poi qualcuno si chiede perché da una parte costa 1,8, da una parte 1,9. È stato imposto, accettato dall'antitrust in questo paese. Di che ha consentito alle compagnie petrolifere di non fare capire più a nessuno qual è il prezzo dei carburanti. Perché i prezzi dei carburanti non li fissano i gestori. Cartelli o non cartelli. C'è bisogno di serietà. Noi domani questo chiediamo al governo. Zaballoni le posso chiedere una cosa. Oggi, allo Stato dell'Arte, con tutte le notizie che abbiamo dato e di cui lei ha conoscenza, che percentuale dà di confermare lo schrope, no? Ma io non gioco nemmeno più alla schedina. Ecco, non si esiste ancora. Esiste, esiste. Lascio ai bookmakers. Certo, in questo clima non si entra in una riunione domani con il governo con l'animo sereno. Noi abbiamo tutta l'intenzione di avere dei provvedimenti e di revocarlo lo sciopero. Ma ci debbono essere delle condizioni precise. Chiaro. Grazie intanto e buon lavoro. Adesso poi affrontiamo il capitolo dell'autonomia differenziata e del presidenzialismo. Intanto fonti della clinica hanno fatto sapere che Messina Denaro era in cura, dicevamo, da oltre un anno per un tumore. Questa è l'ultima notizia. Buongiorno a Paolo Sottocorona. Come si apre la settimana? Buongiorno. Da quello che io sento in giro dovrebbe portare freddo, gelo... Vabbè, se è il gelo bisogna sempre andare cauti. Freddo sì. Questo lo dicono gli altri. Appunto. Freddo sì. Oggi sembra una giornata appena un po' incerta, perché le nuvole sono tante, ma sono irregolari, non sono particolarmente compatte. Qualche pioggia c'è stata durante la notte, attraversata da nord a sud. Adesso c'è qualche pioggia debole fra centro e sud, c'è qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Quello che succede è un peggioramento piuttosto rapido e sicuramente molto intenso, che parte dalla giornata di oggi, in cui comunque sono attese delle piogge moderate o localmente forti, sono le macchie in giallo, che tenderanno a scendere e a raggiungere alcune zone interne del centro e il basso versante tirrenico. Sul resto del nord, per esempio, vedete c'è anche qualche schiarita, quindi non sembra una situazione particolarmente minacciosa, però la carta delle precipitazioni complessive della giornata di domani è minacciosa, perché abbiamo piogge estese, non più che moderate al nord, e lì è un livello. Poi abbiamo il centro e il sud, specie sul versante tirrenico, e la Sardegna, con precipitazioni fortissime. Il giallo sono precipitazioni molto intense, il rosso ancora di più, quindi è maltempo e non con fenomeni isolati, sono piuttosto estesi, questo è maltempo veramente molto forte, ne restano un po' al di fuori i versanti ionici, alcune zone del versante adriatico. Arriviamo a mercoledì, in cui si risolve solo in parte la cosa, perché al sud ancora abbiamo fenomeni molto intensi, quindi sono 48 ore di maltempo forte, sappiamo questo che cosa può significare. Ancora qualche fenomeno più isolato sulle zone del centro, attenuazione dei fenomeni al nord. Questa situazione sarà seguita, perché per il momento i venti sono fra ovest e sud ovest, quindi non freddi. Quando il tempo migliorerà, comincerà a entrare il freddo, quindi seconda parte della settimana, freddo, se volete, anche molto freddo. Abbiamo visto già molte foto di stromboli, che è nella hit parade dei posti fotografati insieme al Monviso, che sono proprio in vetta, e questa foto ce la manda Maria Paola, perché due giorni l'anno, una volta passando verso nord e una volta passando verso sud, il sole tramonta esattamente in mezzo al piccolo avvallamento dell'isola di Stromboli. È una cosa proprio centrata. Anche lì, due volte l'anno, bisogna aspettare il giorno giusto per vederlo in questa maniera. Grazie, noi andiamo di gran carriera in pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, gli aggiornamenti che riguardano l'arresto di Matteo Messina Denaro, avevamo detto che era stato comunicato il suo trasferimento dopo la gattura in un luogo segreto, adesso invece ci danno informazione che si trova in una caserma dei Carabinieri e l'Agenzia dà anche l'indirizzo di questa caserma. Insomma, al di là di tutto questo, continuano ovviamente le prese di posizione di grande felicitazione e di entusiasmo con i magistrati siciliani, con i rossi dei Carabinieri per questa cattura. Allora, intanto c'è anche il dato di Banca Italia sul nostro debito pubblico che a novembre, questo è l'ultimo monitoraggio, ha subito una piccola, lieve riduzione, ma siamo a 2.765 miliardi di euro, tanto per capirci. Allora, vi facciamo vedere. Dicevamo che Salvini ieri ha detto che questo è l'anno buono per l'autonomia differenziata, per portare a casa la riforma. C'è Forza Italia in particolare nell'ambito della maggioranza di governo che dice, sì, discutiamo della Bolsa Calderoli, ma non si deve assolutamente penalizzare il Sud. Ci sono state già le proteste delle opposizioni, di molti governatori di centro-sinistra, ma anche di oltre 100 sindaci del Sud. Vediamo. Il primo va trovata la quadra con tutte le regioni, poi il secondo round sarà confrontarsi con i vari ministeri che hanno gestito quelle competenze e quelle risorse e non li vedrò entusiasti nel fatto di cedere competenze e risorse. Quindi siamo solo al primo tempo della partita. Un primo tempo decisamente combattuto perché non appena il ministro Calderoli ha presentato la sua bozza sull'autonomia differenziata sono fioccate le polemiche in prima linea. C'è una vasta compagine di sindaci del Sud, sia di centro-destra che di centro-sinistra, che hanno scritto direttamente al presidente Mattarella. Abbiamo chiesto soprattutto di convincere le forze politiche del governo, ma anche quelle dell'opposizione che vedono nell'autonomia differenziata un'opportunità per il Paese. Noi abbiamo cercato di chiedere appunto di accantonare questa ipotesi di riforma, di convincere le forze politiche ad accantonare questa ipotesi di riforma per dare precedenza invece a un piano di emergenza per i divari territoriali. Prima di procedere all'eventuale sottoscrizione delle intese vadano individuati i livelli essenziali delle prestazioni. È una parola bruttissima, ma che nel contesto dice che quando uno nasce in Italia ed è cittadino italiano ha gli stessi diritti e gli stessi doveri su tutto il territorio nazionale. Se la definizione di questi livelli essenziali di prestazione avviene senza ulteriore spesa per lo Stato, esistono solo due possibilità. O chi ha già i servizi li deve cedere a chi non li ha, oppure si applicherà ancora la spesa storica e quindi i diritti sociali e civili saranno garantiti a parole, ma non saranno diritti uguali per tutti i cittadini. Senza una linea unitaria non faranno nessun passo in avanti, ma anzi apriremo una guerra politica durissima. L'autonomia è positiva, è migliorativa, è efficienza, è taglio degli sprechi e Trento e Bolzano l'autonomia la usano bene e quindi giustamente ne godono dei risultati sui territori. Io dico guardate la Sicilia, perché la Sicilia ha un'autonomia da diversi anni e questa maggiore autonomia non ha consentito minimamente una crescita della regione siciliana rispetto alle altre regioni del sud. Di fronte alle accuse di aver preparato un testo di legge che spacca l'Italia, il ministro olighista Calderoli ha reagito minacciando querele per diffamazione mentre gli alleati di governo gettano acqua sul fuoco. Da una bozza si arriverà a un testo definitivo, c'è tutto il tempo per lavorare ed eventualmente limare quelle che sono le eventuali criticità. Ad oggi però c'è un testo da cui partire. Allora chiedo al costituzionalista Alfonso Celotto che cos'è l'autonomia differenziata? Così intanto circoscriviamo un po' la questione. L'autonomia differenziata è la previsione dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione modificato nel 2001 che permette, consente ad alcune regioni ordinarie di avere più autonomia. Però noi quello che dobbiamo ricordare è che il tema del regionalismo... L'autonomia ha diverse materie importanti. Di avere più autonomia rispetto alle altre materie. Però dobbiamo ricordare che il tema del regionalismo è irrisolto fin dall'Assemblea Costituente perché in Assemblea Costituente non ci si mise d'accordo su se fare o meno le regioni e paradossalmente il Partito Comunista era molto contrario. Poi quando invece si iniziò l'attività della vita repubblicana la democrazia cristiana divenne contraria alle regioni e le frenò per vent'anni proprio per l'ostruzionismo di maggioranza che fece. Quindi è un tema controverso da sempre quello del regionalismo. Oh, regioni che adesso hanno preso il sopravvento ormai in questi anni. Qui l'ho detto tante volte in tutte le possibili occasioni questo paese ha fatto a meno delle regioni fino al 1970. Non è che c'è stata una grande difficoltà. Erano gli anni del boom economico. Io credo che in una fase storica in cui tra l'altro si sta parlando di ripristinare i consigli provinciali anziché continuare a diminuire i costi della politica a ristabilire poltrone e poltroncine magari per un po' di personale politico trombato. Sul regionalismo questa è un'opportunità di riflessione. Io ricordo che i referendum per l'autonomia in regione Veneto e in regione Lombardia hanno avuto un plebiscito. E un'autonomia non è un principio in assoluto sbagliato anche perché se la si fa seriamente il presidente della regione Sicilia dovrà spiegare in modo un po' più serio di come sta facendo adesso perché spende 3 milioni e mezzo di euro di denaro pubblico in una regione che non ha soldi per gli ospedali e per la propria attività istituzionale per fare un festival. Ha detto che l'ha bloccato e l'aveva ereditato dalla precedente amministrazione solo per completezza di informazioni. Pubblicamente questo è stato detto sempre di destra parliamo. Il tema non è politico qui il tema è più istituzionale e costituzionale. Un'autonomia può avere un significato se la si fa in un modo diverso da come la sta preparando il ministro Calderoli. Ha denunciato, ricordo, ha minacciato di querelare i giornalisti che dicono che spacca l'Italia io ho scritto ma prima che lui minacciasse che disintegra l'Italia così come la sta provando a imporre agli enti locali e alle regioni che giustamente sono preoccupate perché se la si applicasse così come nella prima bozza di decreto Sicilia, Campania, Campania, Calabria chiudono gli ospedali li chiudono tutti questo è l'effetto di quella roba. Che pensi? Perché poi qui le regioni chiedono maggiori competenze diceva su alcune materie gelotto ma sono materie di grande importanza. Io penso malissimo delle regioni sono contro natura l'Italia no ma davvero l'Italia è l'Italia dei comuni lo sappiamo tutti ed ecco perché invece io sono a favore delle province perché oggettivamente diciamo hanno un senso molto storico molto più ma no c'è il munice palesino c'è la privazia dei campanili e dei comuni sull'opportunità di introdurre le regioni che prima non c'erano io che sono siciliano ricordo lo sturzo che aveva in questo senso molto precisare diamo ai comuni quell'importanza e quel ruolo secondo me vengo ai comuni c'è un tema che è incredibile secondo me che non viene mai citato qui ci sono in Italia regioni che sono meno grandi di alcuni comuni cioè come funziona l'autonomia differenziata il Friuli che è un milione bellissima il Friuli che ha un milione di abitanti vale meno di Roma o di Napoli o di Milano o di altre città allora secondo me se dobbiamo ridisegnare tutto lo dobbiamo ridisegnare in una chiave un poco più come dire equilibrata perché se il Molise ha 350 mila abitanti ha autonomia differenziata per il Molise e non per Roma o per Milano o Napoli mi sembra tutto singolare ma come dal tuo punto di vista questo è il problema poi c'è il sud il problema è il sud è così cioè noi se introduciamo un'autonomia differenziata così netta e dura e precisa il sud muore ragazzi già in coma voglio dire se non i livelli essenziali bisogna prima istituire i livelli essenziali i famosi LEP se non andiamo su questi famosi LEP ma dove andiamo? cioè se abbiamo deciso di uccidere definitivamente un pezzo del paese e chiudiamolo basta si può anche fare decidiamolo per carità però la Lega lo capisco che possa farlo io non so francamente come Fratelli d'Italia non lo può fare Fratelli d'Italia ma anche Forza Italia e voglio chiedere l'analisi a Chirico perché si continua a dire soprattutto da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia perché Forza Italia diciamo ha espresso tutte le critiche Fratelli d'Italia sì ma deve marciare in parallelo con il presidenzialismo si dice questa riforma l'autonomia è già nella Costituzione in seguito alla riforma del 2001 che fu voluta dal centro-sinistra per il presidenzialismo il semipresidenzialismo servirebbe una riforma costituzionale che chiaramente ha tempi diversi aggiungici pure che in Lombardia e in Veneto ci sono stati dei referendum i cittadini di quelle regioni si sono espressi e attendono che l'esito diciamo di quel referendum sia attuato per un partito come la Lega che ha nel nord Italia la roccaforte del suo consenso questo è un grande tema poi ci sono le regionali alle viste è una bandiera che non intenda ammainare e credo che nel compromesso e nel negoziato tra le forze di maggioranza si toccherà trovare un punto di incontro perché su questo la Lega difficilmente può fare un passo indietro quindi l'autonomia se vediamo anche in questi giorni la voce del presidente Zaia che si sente forte su questo tema non può essere rinviata il presidenzialismo obiettivamente richiede tempi più lunghi anche per mettersi d'accordo su che tipo di presidenzialismo e quindi secondo te come si metteranno d'accordo? secondo me questo potrebbe essere un motivo di attrito vero nei prossimi mesi molto di più delle accise o di altre questioni questo davvero rischia di essere una tornante oggi c'è l'intervista di Renzi che è di Matteo Renzi che di solito sulla fine dei governi c'è a secca e dice il 2024 nel 2024 questo governo la fine di questo esecutivo sull'equilibrio nella maggioranza sul tema dell'autonomia rischia davvero di saltare ultimissima cosa su cui pure dovremmo riflettere è che anche in assenza di autonomia differenziata purtroppo il pellegrinaggio dei cittadini italiani dal sud al nord d'Italia per curarsi ci racconta molto di cose che non vanno nel sud Italia e quindi qualcosa dobbiamo anche inventarcela perché oggi non c'è l'autonomia eppure le disparità la disuguaglianza nella qualità dei servizi tra nord e sud è eclatante ma qualcosa che lo siamo inventati il PNRR il PNRR al 40% va al sud c'è una incapacità però c'è una incapacità di spesa nel sud Italia anche rispetto al PNRR che è impressionante noi sappiamo che ogni anno le regioni del sud versano alla sanità del nord miliardi di euro il turismo sanitario l'hanno chiamato perché? perché c'è un diciamo un meccanismo anche in questo caso la legislazione tra l'altro fu un suicidio dei presidenti del sud diciamo però le regioni della nord Italia chiedono anche per esempio una cosa di buon senso sul residuo fiscale cioè che le tasse versate che ne so dai Lombardi dai Piemontesi come dai Siculi eccetera rimangano sul territorio delle regioni allora se è così scusate questo è anche un fatto di giustizia perché è la risposta c'è uno studio fatto non da un pericoloso meridionale ma dal presidente della Consob l'attuale presidente della Consob ricordatemi il nome l'età avanza lo ricordiamo Savona Savona Paolo Savona che è un storicamente associato alla legisla c'è uno studio fatto da lui che spiega come questo residuo fiscale tenga in piedi le aziende del nord perché è vero che il nord dà ogni anno una quota dei suoi soldi al sud ma il sud che non ha aziende faccio per dire devo comprare un gelato confezionato siccome non ho l'azienda che lo produce lo compro dal nord quindi questi soldi ritornano con gli interessi poi al nord oh l'ha detto Paolo Savona e non l'ha detto un meridionalista spinto ma c'è un meridionalista uno figlio allora se tu togli questo residuo fiscale al sud anche il nord fallisce mi pare che anche dalla vostra l'80% delle aziende del nord si legge sui consumi del sud per cui se l'ombardi pagano le tasse vorrebbero che venissero usate sul loro territorio io credo che responsabilizzare tutti i livelli di amministrazione è una cosa buona però si pare che sarà una strada molto insalita come diceva è secessione e se ognuno va per sé ognuno fa il suo stato la Lombardia fa il suo stato il Piemonte fa il suo stato il Vieto fa il suo stato siamo in chiusura chiudiamo con la notizia da cui abbiamo cominciato l'arresto di Matteo Messina Denaro ci sono delle immagini che possiamo mostrarvi vediamo un po' se il nostro regista Francesco Giampà ce le mostra eccole qui vedete gli uomini dei carabinieri al centro mi pare di aver visto Messina Denaro qui siamo all'esterno insomma di quella struttura sanitaria privata di cui parlavamo di Palermo la Maddalena peraltro è arrivata una notizia vi abbiamo detto che appunto era l'inter delle cure oncologiche non ha opposto resistenza adesso però leggiamo che fonti della clinica ci dicono che invece Messina Denaro abbia tentato forse vista la situazione di scappare in un bar insomma di defilarsi e sarebbe stato raggiunto in questo bar comunque non so adesso se è un bar interno alla clinica o lì insomma quello era il contesto e come vedete poi l'operazione in questo caso è perfettamente riuscita mettiamola così allora l'ultima domanda che voglio fare un flash ma Messina Denaro al di là della importanza simbolica di questa cattura è ancora un personaggio di primo piano centrale nella mafia o no? Sicuramente sì anche per il ruolo di simbolo che ha per quel tipo di organizzazione io penso però perché oggi sarà il giorno dell'epopea su tutti i telegiornali in tutte le trasmissioni di questo arresto penso che adesso l'errore più grande sia quello di festeggiare giusto festeggiare un arresto così importante ma di considerare la lotta alla mafia un capitolo chiuso questo arresto invece può aprire un nuovo periodo della mafia della vita degli interessi del modo di organizzarsi dei clan sul territorio che sono presenti sono potenti hanno diversificato la loro forza e quindi questo arresto è l'inizio deve essere l'inizio di un maggior impegno contro la mafia non il contrario Carlo concordo e dico aggiungerei le mafie perché ormai il tessuto è univoco diciamo gli affari si fanno insieme e attenzione ultima cosa manca una legislazione antimafia europea che è un altro tema bisognerebbe chiedere all'Europa bisogna fare una puntata su questo una puntata su questo vado da Mirta ciao Mirta buon inizio di settimana buongiorno Andrea doveva essere il blu mande oggi non è di più grigio più brutto dell'anno ma non è così perché onestamente è una bella giornata è una bella giornata per l'Italia per lo Stato questa è una grande vittoria dello Stato questa dell'arresto di Messina Denaro e quindi per tutti noi a 30 anni e un giorno dell'arresto il 15 gennaio del 93 di Totò Rina certo c'è ancora molto da fare ma credo che sia un segnale importante che conseguenze saranno sul governo perché il governo era un momento un po' complicato avete visto un weekend difficilissimo polemiche dentro la maggioranza segni già di logoramento con noi Lirio Abate giornalista esperto di mafia Marcello Sorgis Alessandro Sallusti poi arrivano Luca Sommi e Chiara Colosimo di Fratelli d'Italia professor Cardini perché poi c'è pure questo tema ma Dante è davvero un uomo di destra il fondatore del pensiero di destra nel nostro paese domande queste arriva Fausto Bertinotti sul pensiero di sinistra però lui e poi naturalmente il nostro racconto dell'Italia Palermo la povertà ma anche gli allevatori di nuovo sulle barricate i frattori che bloccano le autostrade con lui De Magistris Costa Lunga Borgonovo Caterino De Luca Roberto Castelli è il tema delle autonomie che comincia a infuocare il dibattito io vi aspetto come sempre grazie salutando i nostri ospiti ricordo di Alfonso Celotto la costituzione presbite per Bonpiani che è l'ultimo saggio di Celotto forse abbiamo la copertina eccolo qua racconta come è nata la costituzione e i grandi effetti di questi 75 anni che la costituzione ha cambiato l'Italia in 75 anni è certo non c'è dubbio grazie grazie a Pausa Celotto grazie a Annalisa Chirico grazie a Gaetano Pedullà grazie a Carlo Puca vi lascio alla reghetina noi ci vediamo domani stesso luogo stessa ora grazie grazie a tutti